Strada regionale 53 Postumia, Bolzano-Vicentino. Poco dopo il casello di Vicenza Nord in direzione Cittadella, troviamo questo svincolo per l'immissione alla Provinciale 51 in direzione del centro del Comune. Un nostro telespettatore ci ha segnalato l'elevato grado di usura del manto stradale, che necessita urgentemente di una riasfaltatura. Una strada molto utilizzata giornalmente, soprattutto dal traffico pesante, che da qui si dirige verso Bassano, ed è proprio il costante e assordante rumore, soprattutto dei cassoni dei tir che incedono nelle buche, a creare un pesante disagio ai residenti della zona. Il nostro telespettatore, inoltre, pone anche la questione sicurezza dell'asfalto sdrucciolevole, soprattutto in previsione della stagione invernale. Queste curve a gomito nel sottopasso possono risultare insidiose se affrontate a velocità non idonee. Una strada che andrebbe sistemata. Alle amministrazioni competenti perché si facciano carico del problema è l'appello del nostro telespettatore che ringraziamo e ci riserviamo di tornare sul posto per verificare la situazione. Continuate a portare le vostre segnalazioni alla nostra redazione di Rete Veneta, sia WhatsApp al 351 17 51 866 o via mail a vicenzachiocciolareteveneta.it o ancora attraverso il gruppo Facebook Amici di Rete Veneta Vicenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.